La grande stagione delle beach soccer attinte Domus Bet Catania ormai alle porte, un calendario ricco di eventi che metteranno Catania e la rinnovata Arena Beach Stadium della Playa al centro delle beach soccer italiane ed internazionale. Si parte il 23 maggio con l'Euro Winner Cup che per la terza volta consecutiva sino a domenica 29 si svolgerà ai piedi dell'Etna. Sempre a Catania avrà luogo la Coppa Italia dall'1 al 5 giugno. In questo caso la Domus Bet Catania arriva dopo 5 finali consecutive perse e due vittorie conseguite nelle 2004 e nel 2005. Il campionato invece scatterà la seconda settimana di giugno e se andrà avanti in tre tappe sino ad agosto la Final 8 si svolgerà a Riccione. Prima la Supercoppa dove il Catania è impegnato in finale con il Terracina ma torniamo all'organizzazione dell'Euro Winner Cup, la Champions League di beach soccer. Guarda è un evento intanto straordinario ma anche perché Catania sarà al centro del beach soccer internazionale. Catania diventa l'Euro Winner Cup, la Champions League beach soccer diventa il più grande evento sportivo che la città di Catania ospiterà. Arriveranno oltre mille atleti e addirittura i gruppi organizzativi quindi stiamo parlando di strutture ricettive che verranno messe dentro. Insomma è una macchina che muoverà milioni di euro per cercare di aumentare quello che è lo spessore economico in un momento di assoluta difficoltà. Anche quest'anno la dirigenza delle Catania Beach soccer che inizierà il ritiro il 9 maggio ha allestito una squadra per vincere agli ordini del riconfermato tecnico della Negra. Nel frattempo è partita la campagna abbonamenti che per l'Euro Winner Cup costerà 18 euro. Per richiederlo basterà andare sul sito www.bookingshow.it Una squadra allestita per vincere assolutamente l'Euro Winner Cup, la Champions League del Beach Soccer. Stiamo continuando a lavorare sodo perché cercheremo di tassellare ancora di più rispetto a quello che è stato fatto. Giordano Santos, uno dei grandi talenti del Beach Soccer, è arrivato a Catania e finalmente siamo una super squadra. Abbiamo cercato di confermare Del Mestre, il portiere della nazionale italiana. Abbiamo cercato di confermare Palazzolo, Zurlo, Diego Armando Maradona Junior. Abbiamo cercato anche di fare altro e cerchiamo di mettere in campo la nostra qualità, le nostre competenze per allestire una super squadra.